musica 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 buon ragazzi dove andiamo? a lei chiede tu strada e? tieni due case e come ormai? uno di riservi? uno di Bacuena ma non si trate ma perchè non l'hai portata al disco? non ce l'hai visto al disco? non l'hai voluto niente? ma sei portata la? andi a Ducela o solo voi? c'è la famiglia? non l'hai visto ma non l'hai visto per un par là di qui? ah qui? qui? youtube? eee... la rotina eee... la rotina eee.... eee... 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti